E' stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Alima Curri, il 36enne marocchino ucciso davanti alla porta della sua abitazione in via Case Nuove all'alba di domenica. Ci vorranno 60 giorni per conoscere i risultati dell'esame. Intanto l'albanese Arbendoga, 53 anni, che si è costituito domenica pomeriggio presso la caserma dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbe ribadito di aver agito per legittima difesa. L'uomo rimane in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Il grosso coltello che secondo la difesa sarebbe stato impugnato dal marocchino nel momento in cui ha aperto la porta di casa sarà sottoposto ad accertamenti da parte del RIS. Intanto sono stati posti sigilli all'abitazione nella quale Alima Curri si deve insieme alla convivente di origini polacche, alla figlia ventenne di quest'ultime dalla bambina avuta dalla convivenza con la donna. La furia dell'albanese sarebbe stata scatenata dall'incendio della sua autovettura parcheggiata nei pressi della via Stretto Secondo Fondaco Nuovo, un incendio del quale Arbendoga riteneva responsabile il marocchino alla luce dei contrasti che ormai da qualche anno si protaervano tra i due, probabilmente a causa di una relazione che l'albanese avrebbe intrattenuto con la figlia della convivente di Alima Curri. L'albanese è così salito a bordo dell'autocarro che utilizzava solitamente per la raccolta di materiale ferroso per bussare alla porta della vittima, morta a seguito dei colpi di spranga inferti dal contendente.